a garantire che André Silva può essere, in un futuro immediato, uno dei migliori avançados del mondo. Vamos a ouvir. È un giovane con tanta qualità. Può essere, in futuro, uno dei migliori attaccanti al mondo. Ha tutto per poterlo essere. Gioca in questo momento in nazionale portoghese con il miglior giocatore della storia del calcio, che è Cristiano Ronaldo. Ma la cosa più importante è che André vuole imparare da Ronaldo. E' da sempre il suo esempio e avere un modello come Cristiano non può che fargli bene. È un grande lavoratore che vuole migliorare giorno dopo giorno. Un giocatore aggressivo, con tantissima qualità tecnica. Sarà sicuramente il miglior attaccante in Italia per i prossimi anni.